Io sono molto felice perché adesso ho l'onore, il piacere, veramente abbiamo fatto un miracolo, si può dire, abbiamo fatto un miracolo di collegarmi con un personaggio, non ve lo voglio neanche annunciare perché tanto lo riconoscete appena comincio a parlare E' il paradiso, siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato, restate in linea per non perdere la priorità acquisita Per farvi perdonare tutti i vostri peccati, digitate 1 Per sapere se un vostro parente si trova qui, digitate 2 Per parlare con le celebrità, digitate 3 Per Napoleone Bonaparte, digitate 1 Per Silvio Berlusconi, digitate 2 No grazie Ricordiamo che in questo caso i tempi di attesa saranno molto lunghi Eh certo perché da poco diciamo Per la regina Elisabetta, digitate 3 3 eccola, ce l'ho Oh Perché E' un'altra cosa che mi ha fatto fa no E' un'altra cosa che mi ha fatto fa No, no, è come righi, non è come righi, non è come righi, tu ti l'hai righi, tu non ti ha righi Lei ti ha ridi, non ti ha righi, tu non ti ha righi a fare me non ti ha fatto Vabbè ma Queen Scusi Ecco esatto Good morning Good morning Good morning Queen Elizabeth Sì ma mi riconosce Regina How are you Gaetani? Very fine I'm so glad to talk to you Gaetani Grazie grazie che è felice di parlare con me Grazie I'm sorry because I was talking to my Youngest nephew Henry Sì e sta parlando col suo Più giovane nipote Henry Sì 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 che c'è un piccolo problema Quindi chiamiamo piccolo Piccolo problema con sua moglie Ecco Sì Un attimo che è complicata questa Allora se non sta andando tutto mazzato ogni giorno Esatto sì Sì Ecco perché gliel'ha detto di non sposarsi Ecco Perché non poteva far parte della famiglia reale È certo She doesn't know She doesn't know how to be How the things you have to do when you are with a royal person You know Ci stavano troppi? How? Qualcun Qualcun Esatto Aspetti che questo è troppo inglese Allora gliel'ha detto una volta Due volte Tre volte Gli ha fatto fare la schiuma in bocca È certo A botti C'ho dicendo sempre Ho anche incontrato sua madre La buonanima di Lady Di È certo Giusto Non poteva stare lì Se era stata lei Queen Of course Parlo con i principali It's a sabbath ago Sì Un giorno stai Si hanno stati i servizi segreti Ma è un giorno Ha ragione Lei è una santa donna Queen Yes Che legaggio supportante No vabbè Non faccio così Queen La prego E mi commuove Che legaggio supportante D'andando con mio marito Morichi Morichi Patate E deciso che mio marito Doveva morire Sì Prima di lei Tra l'altro Una bella vedovante Esatto Cioè non se l'è goduta proprio Come dire Sì 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 Quando è andato in paradiso Sì Sì la prima persona che ha incontrato È stato mio marito Ah proprio lui Vi siete riuniti Ma proprio lui Che bello No Ma quanto male Non so Cioè lei è arrivata Si sono aperte le porte del paradiso L'ha acchiappata in faccia proprio Diciamo Sì 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 Ho capito ma non decidiamo noi Regina Cioè decide il principale Sì Sì No regina scusi Sì Ha parlato proprio in inglese stretto con lui E gli ha detto Non è che mi devi rompere le scatole anche qua Eh No perché era un po' complicato Ed è riuscito a convincere suo nipote Regina No No Non ce l'ha fatta Ah va bene Allora lei ci lascia Perché così continua a parlare con lui Allora magari ci risentiamo nei prossimi giorni Ha ragione Ha ragione Perché a nonne sembra nonne No No Regina Arrivederci Va piano 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 Piano